nuovo video arachnofili, oggi siamo di nuovo sull'app Spyderco per vedere quali sono le novità non vi ho segnalato il Native 5 Blade HQ Exclusive color menta come si suol dire che è uscito pochi giorni fa ma quello che è più importante è che oggi è uscita il volume decimo reveal cosiddetto della Spyderco 2022, il numero 10 quindi andiamo a vedere un po' di cosa si tratta, clicchiamo qui here e ci porta sulla pagina in pdf il catalogo che potete trovare all'indirizzo catalog.spiderco.com come potete vedere lì in alto sono 16 pagine che ci mostrano i nuovi Spyderco il Native 5 Salt con questa colorazione, l'UK Pen Knife Salt, l'Endela, il Persistence, l'Ambitus, l'Uptern c'è un bellissimo scorpione con il Subway Bowie e il Subway Bowie nero il Mule Team 2, l'Enough 2, guardate che bello sembra un albero il Mule Team sempre, i vari Mule Team MT34, MT38 il Pits Folder con i suoi buchi il Massad Iob, una rivisitazione bellissima, uno sprint run come potete leggere in basso il Native Chief Brown, quindi marrone il Native Chief Brown nero in M390, bellissimi e finisce così, queste sono le rivelazioni nel numero 10 appunto di Spyderco vi ringrazio appunto facendovi scorrere di nuovo tutti i coltelli in maniera velocissima bellissimi, anche le colorazioni scelte perfettamente con queste nuove colorazioni che vanno sul verdastro, verde, acceso, verde, fosforescente io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video sempre con tutte le news su Spyderco e ci vediamo in un prossimo video